Progetto Libri Amici. Anno scolastico 2022-2023. Ecco il libro che abbiamo letto quest'anno. Si intitola La fattoria degli animali. L'autore è George Orwell. Scrisse il libro nel 1945, ma lo pubblicò nel 1948. Di cosa parla? In una fattoria dell'Inghilterra, gli animali hanno fatto una rivolta contro il padrone per ottenere la libertà. Abbiamo elencato i personaggi della storia. Ecco alcuni protagonisti della storia. Il Vecchio Maggiore è il maiale più anziano della fattoria. È saggio e rispettato da tutti. Palla di neve è il maiale più sincero e ricco di fantasia. Gestì la fattoria dopo la morte del Vecchio Maggiore, portando avanti le sue idee. Napoleone è un maiale figuro di sé. Fumbo, falso e fortunista. Riuscirà a cacciare dalla fattoria palla di neve e a prenderne il controllo. Infine Pugge. È un cavallo forte. Si fida di Napoleone e perciò lavorerà un altro progettivo. Ecco la drama. Questo libro mi è piaciuto particolarmente perché è stato molto bello ed educativo. Grazie.